Da Amici Miei puoi pranzare a buffet con 8 euro o gustare una pericena con ottimi cocktails e vini. Inoltre dalle 23 puoi bere il tuo drink preferito a partire da 3 euro e 50 e con la tessera. L'undicesima bevuta te la regaliamo noi. Amici Miei è il locale più Antani. Antani, come se fosse Antante. E ricorda, non è una supercazzola. Amici Miei. Amici Miei.